ragazzi panico domani sono in gara a pontevera e non so cosa mettermi allora la base diciamo che c'è ma il resto allora partiamo dal presupposto che il sottosella penso che lo metterò entrambi i giorni è quello rosso rosso ma non ho una giacca rossa quindi ho tre giacche una della tattini un'azzurra ma la escluderei subito e un'altra giacca ora ve le faccio vedere questa è quella della tattini e penso che sia quella che metterò però non lo so ancora questa è quella azzurra che abbiamo già escluso perché col rosso no e questa è l'altra però non so penso mi stia un piccola quindi l'outfit con cui partirò domani è questo con una magliettina di pile a maniche lunghe metterò questi calzini e questa felpa abbastanza leggera con questa cintura pantaloni dell'equestro normali che però adesso non ce li ho di là e con questo fiocchetto che userò anche per montare e questo cappellino invece però mi porterò di cambio questa felpa un po più pesante e se fa più caldo questa magliettina qua con tutti i brillantini e niente ragazzi un piccolo avviso l'altro vlog non l'ho potuto finire appunto non ho potuto fare il secondo giorno perché comunque sono stata male e tante altre cose comunque per questo virus che gira un po e speriamo che questo questa gara andrà tutto bene faccio tutti i due giorni la 50 e niente ciao